La latteria sociale Molinazza di Casal Grande ha premiato parte dei vincitori del giornale di Reggio Games e il gioco quiz estivo che offre la possibilità di mettersi alla prova sulla conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni della città di Reggio Emilia e della sua provincia. Giunto alla sua seconda edizione, il gioco a premi promosso dal giornale di Reggio in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano anche quest'anno ha dato la possibilità a 40 fortunati vincitori di aggiudicarsi ciascuno una punta da un chilo del pregiato formaggio. Tra le tante domande proposte, diverse riguardavano il Parmigiano Reggiano, grande protagonista dell'iniziativa. Dalle antiche origini alle tecniche di lavorazione e produzione, passando per la battitura, la filiera del controllo qualità e la commercializzazione in Italia e all'estero, i partecipanti hanno dimostrato ancora una volta di conoscere e apprezzare il re dei formaggi. I vincitori hanno avuto l'occasione di visitare la latteria sociale Molinazza, storica realtà del territorio fondata nel lontano 1940 e di conoscere più da vicino le fasi di lavorazione del Parmigiano Reggiano, la sua storia e i suoi segreti. Al termine della visita, la latteria ha offerto loro assaggi di diverse stagionature di Parmigiano Reggiano e ha consegnato le punte in palio con un omaggio speciale, una ricotta fresca gentilmente offerta dalla casa. La latteria sociale Molinazza produce Parmigiano Reggiano di altissima qualità con latte della zona nel pieno rispetto delle antiche tecniche di lavorazione e trasformazione, rimaste immutate nei secoli a testimonianza di una cultura del fare che continua ad essere tramandata di generazione in generazione. Oltre al Parmigiano Reggiano di diverse stagionature, propone tanti prodotti e tipicità del territorio di altissima qualità. La latteria sociale Molinazza si trova a Casal Grande in via Canale 54.